Consiglio comunale non propriamente estivo, quello di ieri sera a Isernia ha finito a pesci in faccia, tra minoranza e maggioranza, che se ne sono cantate di santa ragione per la mozione delle opposizioni, che chiedevano una riduzione dei costi delle bollette dell'acqua e che ha visto il centro-sinistra bollare come stupida e non corretta la loro iniziativa. Intanto il dibattito sulla piscina, anche quello molto vivace, aveva già visto chiacchiari attaccare e Castrataro rispondere. Per la piscina è stata giudicata, quindi bisognava soltanto fare inizio lavori e questo ancora non viene fatto, perché dopo l'inizio lavori bisogna fare la gara di progettazione, quindi a questo questo non è stato fatto e quindi ritengo che a fine anno ancora non si possa iniziare la piscina comunale, non so se si aspetti qualcos'altro. La piscina dicono che abbia trovato altri soldi, giusto? Per far partire i lavori? Non è solo per farli partire, per fare in modo che sia gestibile, che i costi soprattutto dovuti al gas e all'energia elettrica possano essere abbattuti per chi la gestirà dopo, perché oggi molte piscine in Italia stanno chiudendo e soffrono dei costi energetici, non ci dobbiamo permettere di aprire una piscina che poi diventa economicamente non gestibile. E quindi che cosa ha fatto? Ora stiamo facendo la diagnosi energetica, con questa approveremo un progetto in giunta per migliorare gli impianti, in particolare un impianto fotovoltaico, un impianto solare termico, spero che diventi una prima piscina totalmente sostenibile in Italia. E ieri sera il Consiglio ha anche formalizzato la decadenza di Gabriele Melogli per le dimissioni presentate dall'ex sindaco e ratificato l'ingresso in aula al suo posto sui banchi della minoranza dell'ex assessore allo sport, una Antonella Matticoli decisamente emozionata. Beh, sicuramente prendendo atto delle dimissioni dell'Avvocato Melogli, ne comprendo le ragioni e le motivazioni, però bisogna dire che sarà una grave perdita l'assenza del Consigliere in termini di competenze e di esperienza. Darò il mio contributo dai banchi dell'opposizione, ovviamente nel solco del progetto amministrativo presentato alla città di Sernia in campagna elettorale, quindi offrirò il mio contributo portando avanti quelli che sono i temi, diciamo che riguardavano la mia pregressa esperienza amministrativa, quindi lo sport, quindi le politiche sociali e i temi dell'innovazione.